E' una chiamata alle idee in questo momento, l'idea è quella proprio di aprire la conversazione, quindi le idee per il futuro dell'albergo dei poveri. La visione noi ce l'abbiamo, il sindaco ha le idee molto chiare su questo e l'idea molto chiara è proprio quella di rendere questo un progetto aperto e un progetto partecipato. Quindi da questa prima manifestazione sono arrivate delle risposte molto interessanti. Continueremo a fare questo ciclo di incontri perché l'ingaggio con la città è la prima, proprio è la parte di apertura del lavoro, che consente sia all'immaginario di familiarizzare con questo luogo che è rimasto chiuso per molto tempo e quindi di renderlo più prossimo, più vicino alla città e nello stesso tempo naturalmente è proprio un brainstorming collettivo, questa è l'idea. Il nostro progetto è quello di essere una grande fabbrica che guardi proprio alla promozione dei giovani ma significa soprattutto guardare alla creatività, all'alta formazione, alla conoscenza, alla lettura, a tutte quelle che sono delle attività, che sono delle attività sia di creazione culturale ma anche di economia che è legata alla cultura. E poi lasciare anche uno spazio significativo a delle attività temporanee in maniera tale che ci sia un continuo aggiornamento delle funzioni dell'albergo dei poveri che sia capace anche di interpretare i cambiamenti che avvengono così rapidamente nella nostra società. Professionisti e comunità insieme per cercare soluzioni innovative e compatibili con le caratteristiche morfologiche funzionali ed evocative dell'albergo dei poveri. Il workshop di idee a partecipazione libera lanciato dal Comune di Napoli oggi e domani incontra esperti internazionali di rigenerazione urbana. Il gran vantaggio di lavorare in un edificio di fuga è che non ci vuole tanta fantasia. Gli spazi qui sono assolutamente incredibili, cioè i cortili, gli spazi interni, esterni, la presenza sulla strada, su via fuoria, eccetera, è importante. Le due o tre idee qui sono fondamentali e cambiano il modus operandi. Uno è di fare l'intervento qui all'albergo in un modo incrementale, cioè in fasi, non fare tutto nello stesso tempo. Secondo è di avere una serie di istituzioni, individui, attività, sia permanenti che temporanee, che cambia completamente la dimensione anche psicologica di come questo edificio rientra nella vita della città. L'ambizioso progetto di restauro e riattivazione dello storico reale albergo dei poveri gode di un finanziamento di 100 milioni di euro del Piano Nazionale Complementare al PNRR, con cui sarà gradualmente riaperto alla città con spazi dinamici per i giovani, usi permanenti e temporanei per l'innovazione e la formazione, ma anche molto altro. Una nuova infrastruttura sociale urbana, insomma, in costante movimento e a stretto contatto con il territorio. Aprire l'edificio alla città, per cui farlo più poroso, si può dire, permeabile, che non è perché è un edificio imponente, ha una sua forza. Ricordiamoci è nato come un'istituzione non necessariamente alla città, per cui tutte le nostre esperienze, Johnny Misica a Parigi, le mie a Londra, e di prendere edifici che erano poi nati come strutture introverse, tipo anche stazioni, cose di questo tipo, e di aprirle. Per cui a quel livello non è che bisogna fare troppo. Nell'emore poi della realizzazione di un progetto più lungo, che chiaramente richiede dei tempi, noi mettiamo in condizione alcuni spazi, soprattutto gli spazi del Piano Terra, che sono degli spazi anche accessibili in maniera diretta dalla strada, per poter avere degli usi temporanei. Quindi il nostro obiettivo è che entro la fine del 2023 dare questa opportunità. Questi usi temporanei possono partire da mostre, da attività collettive, attività creative, workshop, quindi con una partecipazione significativa del quartiere e anche ovviamente tutta la comunità napoletana. Ovvio la dimensione dell'albergo dei poveri è una dimensione internazionale, quindi noi ci aspettiamo di avere anche interesse da altre parti d'Italia e da fuori Italia, come ci sono questi interessi se si sta costruendo. Però ovviamente noi partiamo anche dalle tante esperienze napoletane, pensiamo anche ovviamente allo sport e tante altre cose. Questo è un luogo che ha una sua rappresentatività nell'immaginario di Napoli, è un luogo dove fino a non tanti anni fa ci sono stati bambini, ci sono state persone che hanno trovato un percorso di vita partendo da questo luogo. Quindi noi dobbiamo rienterpretare quello spirito facendolo oggi, ovviamente negli anni 2000. Ovviamente ci saranno delle istituzioni di ancoraggio, delle istituzioni permanenti che saranno in questa sede, ma ci aspettiamo anche che il palazzo si apra sulla piazza. Questo determinerà anche ovviamente una maggiore vita di Piazza Carlo III e anche di questa zona della città che potrà avere quindi anche una nuova animazione rispetto a questa prospettiva. Come un'altra suggestione che noi stiamo valutando è il rapporto con l'orto botanico, che l'orto botanico storicamente è stato sempre un luogo di rapporto con l'albergo dei poveri. Io me lo immagino in moltissimi modi diversi, però me lo immagino come un posto aperto, un posto dove si possano fare delle attività creative, me lo immagino come un posto accogliente, un posto accogliente per la diversità e per la differenza. Così me lo immagino. E me lo immagino come un posto dove si possa venire a studiare, dove ci si possa incontrare, dove si possa lavorare e me lo immagino anche come un posto che funzioni anche di notte. Me lo immagino come un posto che abbia un ciclo di vita continuo, che non chiude alle 5 del pomeriggio. Noi ci immaginiamo che ci sia ovviamente all'interno di tutti questi percorsi anche una spazio per l'intrattenimento, per il cibo, ovviamente facendo un discorso culturale, quindi che ci sia un'area, delle aree che consentono anche di vivere questi spazi sia all'interno che all'esterno. Grazie. Grazie.